Ho panificato il... Non ci vengo più papà con te, ma ha detto? Sì, guardate, ma papà! Le regatine, facciamo le regatine. Oh, occhia a questo, eh! So quanto che mire! Che faccio, io? Tre minuti! Oh, ragazzi, è abbattato! Oh, tre minuti! Eh, lo so! Marco, lo so, lo so, lo so! Oh, sto mirando! Non cazzare, guarda dove andiamo! C'è un'altra strada che c'è! No, ma c'è! C'è un'altra strada che... Non c'è! Vido! Sì! Ma tu lo fai stradare e poi lo fermi tu! La maniglia la puoi tornare! Grazie. 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 Siamo in bova, eh? Dai. 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 Oh, salvatore. Salvatore. Dai. Dai. E poi non era mollata la scotta. Bullate la scotta, il barbe della scotta. Ehm... Ok. Puoi calzare il... Puoi anche? A me. Hai così? Eh, vanno per me! C'è un piede solo! No, no, c'è un menù! No, no, non ti prendi! Che c'è di portiere? Eh, beh, ma non so, non riesco a vedere l'informazione. Allora, no! Strici il portiere! Bravi... Robo 결otti! Scotta! Gu… Scotta! Bravi! Adesso una God of Tr MICHAEL! No, noi ce n'ho già chiesto. No, no! Dobbiamo vincere! C'hanno arrivato che ora quando venivamo a prendere c'è la tata! Dobbiamo vincere adesso. öeh beschlardaати! i brano di 500! grazie!